Ciao ragazzi e benvenuti nel terzo episodio di Fuori dalle scatole e se avete letto il titolo si è un po' provocatorio però effettivamente le ultime settimane ci sono stati queste due grandi novità la prima è quella di Amazon Music HD anche Amazon il colosso di distribuzione di libri, cd, vinili e qualsiasi altro bene possibile immaginabile si avventura nello streaming ma ad alta risoluzione questo è l'HD, arriva con una bellezza di 60 milioni di brani e con un abbonamento molto intrigante, vi lascio il link qui sotto in descrizione perché i primi tre mesi, 90 giorni, sono tanti 90 giorni, sono gratis quindi c'è tutto il tempo di vedere se ci soddisfa o meno dopo questi 90 giorni costerà 14,99 al mese che è quello che costa un cd nuovo di pacca e sempre in queste settimane arriva la notizia che negli USA gli utili, i proventi della vendita dei vinili ha superato i proventi utili della vendita dei cd questo sì perché il vinile costa di più ma questa mi ha fatto partire una bella riflessione che voglio portare avanti con noi perché tra le cose che voglio tirare fuori dalle scatole oggi c'è anche un cd, sì è un cd, non è un vinile in un'edizione molto molto particolare ma non perdiamo tempo, armiamoci letteralmente e andiamo a tirare fuori un bel popò di roba dalle scatole ecco qui come sempre questa tradizione ma che non durerà moltissimo sta diventando un po' assurda quella di iniziare la recensione con un coltellino io ho sempre desiderato comprarmi uno Spyderco vedete qui soltanto i Spyderco ragazzi costano molto cari e vedevo avere comunque uno con una forma con un tipo di lama particolare spendendo meno e fortunatamente c'è la linea Bird che è la stessa praticamente progettazione ma prodotto in Cina scatola comunque carina con evidenziato in maniera cromata quello che è l'occhiello di apertura unica cosa negativa sentite sì la scatola è molto più grande di quello che è il contenuto comunque un coltello ambidestro con l'occhiello per i leccetti con l'apertura facilitata insomma andiamo a vederlo ovviamente il coltellino che tengo in mano lo trovate nel primo episodio il suo unboxing ecco qui beh vi dicevo la scatolina è più grande di quello che serve andiamo a stringere controlliamo il saffuoco ed eccola qui c'è nient'altro nella scatola? no? ed è lui particolarissimo quella che è la forma della lama vediamo se riesco effettivamente ad aprirlo con una mano sola sì non facilissimo perché il movimento è ampio molto bella l'impugnatura al tatto perché è materiale plastico ma effettivamente non ti scivola assolutamente è molto particolare è un po' spaventosa ragazzi non è un coltello da portare in giro lasciatela a casa perché per quanto non lunghissime vedete la lama non raggiunge le quattro dita fa impressione è molto particolare quella che è la sua affilatura perché è dentellata il che la rende adatta se vogliamo tipo tagliare delle corde viene molto utilizzata in nautica ma è decisamente complessa da affilare va utilizzata degli strumenti appositi che dobbiamo anche sapere utilizzare prendo il solito fogliettino per la prova affilatura eccolo qui vediamo un po' com'è l'affilatura di fabbrica wow sì decisamente affilato di fabbrica dipende dove prendi perché se prendi il punto senza wow il punto dentellato strappa ma se becchi l'ondina di affilatura ragazzi è davvero un rasoio e vedete dipende come prendi bello 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 chiusura di sicurezza dovrebbe essere qui vedete si va ad allentare è riuscito l'inquadratura si va a premere quando ho tagliato mi avete visto? sì si va a premere qui e si chiude davvero molto bello con il gancetto da cintura e costa davvero poco per quello che è lui costa 23,99 euro come sempre se vi interessa link in descrizione allora sembra un vinile ma non è sembra tal che un ma non è serve a darti l'allegria ok questa è la versione di Ultimate Edition di Empath di Devin Townsend è un album del 2019 versione con gli avvisi età consigliata 15 oppure qui non so in quale nazione ne bastano 6 ok sicuramente testi abbastanza forte però è la versione definitiva perché contiene 2 cd e 2 blu-ray con il coltellino che abbiamo appena unboxato andiamo ad aprirlo con estrema delicatezza perché non voglio ovviamente rovinare il prezioso contenuto mano aperto? sì è davvero un rasoio questo bird andiamo ad aprire la pellicolina ecco qui togliamo tutto togliamo il coltello togliamo il risvoltino di cartone in cui dietro c'è spiegato tutto il contenuto io questo lo conservo perché se siete collezionisti non buttate via il materiale aggiuntivo comunque ragazzi io adoro questo uomo anche mettersi sul retro di copertina in calzoncini calzini con le crocs attaccate alla chitarra ragazzi lui è un dannato genio e cosa c'è qui dentro? sbabum abbiamo i due cd audio e i due blu-ray ma la cosa più bella è questo ragazzi un vero booklet vero stampato bene con tutto l'artwork che ti puoi godere come se fosse un vinile guardate ragazzi che spettacolo ziltoid se l'ho pronunciato bene non lo so ma ragazzi che spettacolo io adoro David Townsend perché lui fa metal ma fa un metal assolutamente unico vi rimando qui sopra e scheda il video di Why è una canzone se vogliamo un po' alla Disney ma in mezzo c'è orchestra sinfonica c'è anche il growl c'è tutto è un video tra l'altro molto molto particolare su questo libricino se non sbaglio ci dovrebbero stare anche eccole bellissime quelle che sono il bello della musica fisica a differenza della musica liquida puoi vedere le studio di registrazione i musicisti che hanno collaborato se non sbaglio di pensare anche Steve Hay i coristi lui che ragazzi è uno con tanti capelli come me ma è un dio davvero è un gran guardate questa parte qui ok il racionamento che vi dicevo in apertura è questo questa edizione qui vi lascio sempre il link in descrizione costa 47 euro e spicci costa tanto ma noi se compriamo la versione semplice quella con soltanto un cd costa 19 euro e spicci ecco che se noi vogliamo scoprire la musica portarla dietro con noi secondo me lo streaming quello di amazon music hd è fantastico abbiamo qualità in alcuni casi anche superiore a quella il cd per cui ci fermiamo a 16 bit 44 kHz amazon music hd va sopra arriva anche ai 24 bit e oltre quindi abbiamo una qualità migliore però la musica se diventa anche collezionismo se siamo appassionati di un artista di quello che produce allora un oggetto del genere averlo nella nostra collezione poterlo sfogliare e vedere le immagini vedere queste cose mentre ascoltiamo la musica è questo è tutto un altro discorso quindi per me e ditelo a Mari come sempre qui sotto nei commenti vale più la pena spendere 47 euro per qualcosa del genere dopo magari che su amazon music hd abbiamo scoperto che noi si amiamo devin townset comunque se amate il metal amate voci e chitarre un muro del suono insomma link in descrizione non fatevelo sfuggire altra confezione altra scatola XXL per le Shure a Onyx 50 sono delle cuffie senza fili bluetooth 5 con riduzione rumore regolabile bellissimo il packaging con due piedini questi qui sotto che le permettono di stare in piedi o di essere portate con il laccetto ed è tutta rotonda dietro varie caratteristiche che possono essere indossate a lungo batteria che dura fino a 20 ore possiamo ascoltare sia i suoni ambientali sia ridurre i rumori garanzia di due anni tre punti no quattro punti da andare ad aprire quindi uno e due e tre e quattro ok andiamo a rovesciare e a sfilare e vedere quello che è il contenuto allora c'è una bellissima custodia che sembra ricordare la forma di un microfono io sure l'ho sempre apprezzata l'ho sempre utilizzata come auricolare quando suono la batteria vi rimando il video dedicato qui sopra e questa è la custodia da trasporto fermi 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 carinissimo comunque il packaging confezione promossa vedete che su quello che è il coperchio all'interno c'è una tasca e sembra che tutta la manualistica è sempre di forma rotonda apri leggi e insomma goditi l'esperienza quindi qui ci sono un minimo di indicazioni ma in inglese un minimo e va bene simbolo al microfono anche qui bella maniglina di trasporto zippettona tutto intorno da andare ad aprire e l'avevo già vista ma bella proprio la finitura in pelle marrone c'è un elasticone ma è vera pelle no è vilpelle però effetto vederle come si aprono sì così belli materiali questi snodi che effettivamente vado leggermente a stringere e a rimettere a fuoco ecco hanno una bella sensazione quando i ruoti sono duri al punto giusto l'archetto è sì regolabile belle le cuciture a vista belli padiglioni con sì beh questo penso che sia da togliere sì c'è un'etichetta da rimuovere per cui mi servirà il coltellinan e qui sembro i tomi se faccio il nenn alla fine allora e c'è anche un po' di materiale di imballo o no 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 c'è scritto remove e quindi c'è da toglierlo sì c'è un paio di tamponi adesivi li vedete qui di fianco questi sono da rimuovere che c'è scritto giustamente remove eccoli queste sono in tutta la loro bellezza andiamo a vedere la dotazione allora abbiamo tutta la garanzia che non ci interessa saldi se canti non ci interessa bella anche la tasca per gli accessori con velcro che abbiamo esattamente qui e abbiamo il cavetto mini jack il cavetto usb di tipo c e infatti cosa troviamo come controlli vediamo se siamo a fuoco altro controllo quindi abbiamo l'ingresso usb di tipo c il tasto per l'accensione proviamo subito accenderlo infatti se cesa la lucina blu abbiamo i controlli per alzare e abbassare il volume e centrale penso per rispondere e quello che dovrebbe essere ma adesso lo vado a studiare per la regolazione e riduzione rumore infatti abbiamo uno due tre posizioni differenti da quest'altra parte l'ingresso che è il jack quello più piccolino dovrebbe essere da 2,5 millimetri ma adesso la configuro la indosso l'ascolto un attimo e poi ve ne parlo allora indubbiamente materiale top quando li indossiamo si apprezza la morbidezza sia della fascia sopra sia del materiale a contatto con le orecchie anche se non scaldano ma per me che indosso gli occhiali siccome i padiglioni non sono ampissimi vanno a schiacciare l'orecchio contro la stanghetta degli occhiali quindi dopo un'ora un po' di fastidio c'è altra cosa che mi è convinto è il selettore della riduzione rumore che è gestibile anche tramite app tramite app possiamo scegliere se è riduzione bassa oppure alta la riduzione comunque buona non top ma buona ma le tre posizioni sono impossibili ad azionare con una mano sola perché l'interruttore è troppo rigido serve in pratica tenere una mano per tenere fermo il paviglione e con l'altra mano andare a spostare il selettore effettivamente è una sensazione non proprio piacevolissima avrei curato di più quelli che sono i pulsanti quello che invece vince al 100% è il suono qui si vede che è un prodotto shuro di un'azienda che ha sempre pensato a chi lavora letteralmente col suono bassi medi alti assolutamente perfetti niente bassi pompati niente alti pungenti insomma il suono è la sua caratteristica migliore ma un altro difetto ad essere onesti c'è è il prezzo si materiali premium gli snodi sono realizzati davvero in maniera meravigliosa ottime regolazioni e materiali premium il suono premium te li fanno pagare 399 euro tra l'altro straconsigliata questa colorazione marrone se volete acquistarli link in descrizione e si è arrivato il momento di parlare un po' anche di fotografia se siete nuovi sul mio canale si parla sul mio canale principalmente di audio e fotografia e mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi mettetemi anche un bel mi piace e se il video vi ha preso condividetelo con i vostri amici servirà a sostenermi e a farvi portare sempre contenuti più interessanti vi dicevo si parla di fotografia con adattatore della Viltrox ne avevo già parlato di uno molto simile lo rimetto qui sopra ma questo ha il motore a che serve il motore vediamo tra poco finto unboxing perché questo l'ho preso usato quindi non ci sono i sigilli da rompere che sono stati già aperti dal precedente proprietario al suo interno i cartoncini con presuppongo la garanzia in lingua inglese e in lingua orientale il libricino di istruzioni che qui è in lingua orientale ma all'interno comunque c'è anche la lingua inglese e qui avvolto in una bustina di plastica questo qui vabbè il controllo di qualità che fa sempre piacere trovarlo non c'è nient'altro non c'è una custodia di trasporto andiamo a stringere più più da vicino sono al massimo controlliamo messo a fuoco sì ok vedete che sotto c'è questa parte che contiene l'elettronica lo si capisce anche perché c'è un ingresso micro usb per l'aggiornamento del firmware l'attacco per il cavalletto e vedete che la baionetta ha i contatti elettrici e quindi dovrebbe essere mantenuto adesso lo mettiamo alla prova sia l'autofocus vedete i contatti anche per l'ottica sia insomma tutta la trasmissione dei dati quindi anche per la stabilizzazione per sapere quella che è la focale in uso il selettore passare da messa a fuoco manuale automatica ma andiamo innanzitutto a prendere un'ottica il mio micro nicole 60 mm della nikon che è una delle mie ottiche preferite e vediamo com'è l'innesto vado a allineare i due pallini e si il click è bello saldo bello stabile effettivamente con un bel suono non c'è che dire ma adesso vado a cambiare inquadratura perché io sto utilizzando la panasonic un 60 mm sulla panasonic diventa un 120 mm macro 2.8 una vera belva e risultati cambiamo fotocamera e ve li mostro ecco qui la mia famiglia in versione lego posta sopra la mia panasonic gh5 con il viltros autofocus impostato in afs e qui vediamo infatti che il fuoco è sulla faccia di agnese vado sulla faccia di giorgia eccolo vado sulla faccia di mia moglie eccola sulla mia di faccia e c'è ok sulla faccia di agnese torno ed eccola che è tornata quindi si effettivamente funziona bene non è fulmineo ma effettivamente permette di rendere utilizzabile allora attenzione il costo di questo adattatore è 199 euro quindi non proprio pochissimo ma se come me avete una bellissima collezione di niccor in casa la spesa secondo me è consigliata come sempre link qui sotto in descrizione allora questo è un prodotto che in realtà mi ha chiesto uno di voi mi raccomando ragazzi se mi scrivete qualche messaggio me lo perdo lo ammetto che siete in tanti ma generalmente vi ascolto vi dispondo e mi ispiro alle vostre richieste io dicevo uno di voi mi ha chiesto perché avendo i genitori anziani vi ha bisogno di qualcosa per fargli ascoltare meglio la televisione senza alzare il volume a bomba e delle cuffie wireless sì esistono quelle bluetooth ma quelle bluetooth sono un po' complicate perché dobbiamo avere sia la stazione di trasmissione sia la cuffia da ricaricare invece queste soluzioni complete non mettiamo le cuffie sulla basetta si ricaricano e la basetta tra l'altro questa ha anche l'ingresso ottico quindi alla fine si mantiene anche una buona qualità ingresso ottico ingresso RCA ingresso con jack 3,5 mm trasmissione senza filia 2,4 GHz quindi con un'ottima qualità ma andiamo a vedere cosa c'è nella confezione non c'è niente per cui serva un coltello ma caspita se dura la chiusura qui dietro ok ce l'ho fatta classico blisterone con tanta tanta roba allora abbiamo innanzitutto giustamente quelle che sono le cuffie leggere morbide in vilpelle ma insomma anche un minimo stilose con questa parte cromata poi abbiamo la basetta che è questa torrettona che vediamo qui particolare che è un verde militare satinato sul retro per l'appunto vado anche leggermente a stringere e a rimettere a fuoco abbiamo l'ingresso ottico l'ingresso ausiliario l'ingresso d'alimentazione sulla parte frontale possiamo accendere e spegnere possiamo scegliere se mettere attivare un'attenuazione del meno 8 decibel una specie di muting e scegliere appunto tra ingresso ottico e ingresso ausiliario quindi presuppongo quello su jack sulla parte superiore fuoco permettendo ci sono per l'appunto i contatti che su quella che è la cuffia vedete sulla parte corrispondente quindi noi l'appoggiamo qui sopra e va automaticamente in ricarica dotazione completata giustamente da quello che è l'alimentatore switching semplicissimo riesco a leggere da 5 volt un ampere quindi tra l'altro consuma anche poco poi cavetti in dotazione questo mi fa davvero piacere lo vedo un po' cortino però il cavetto contriamo sempre la messa a fuoco ottico è in dotazione cavetto mini jack stereo in dotazione e anche cavetto utile per adattare da mini jack stereo a rca quindi una dotazione davvero completa infine quelle che sono le istruzioni che saranno sicuramente in varie lingue ma vedo anche l'italiano e si si apprezza quindi se dobbiamo utilizzarlo noi o darlo in mano a quelli che sono i nostri nonni diciamo prima se è tutto ben spiegato se ci sono disegni chiari è tutto ottimo e quindi adesso mi sposto davanti alla tv ecco qui che sto guardando morto trend ma lo sto ascoltando solo io provo avvicinare la cuffia al microfono a farvi sentire un po' di audio si loro funzionano molto bene sono anche comodo ottima regolazione del volume c'è un tasto q che permette di scegliere un'equalizzazione che mette in evidenza il parlato e posso camminare e anche mettermi a cucinare a distanza non perde mai il segnale poi cambio fotocamera 1 2 3 su eccolo e vi faccio vedere questa è la vasetta vedete con le spie verdi le cuffie hanno una spia rossa appena gliele metto sopra guardate tac l'audio si interrompe e vanno in ricarica quindi uso davvero semplicissimo anche per persona anziana difetti per me solo due effettivamente il cavo ottico è cortissimo quindi deve essere davvero vicino al previsore altrimenti non se ne parla ma si può comprare uno più lungo e mi è arrivato con un piedino in meno quindi rimane un po' traballante ma anche quello si compra un gommino adesivo si trovano in ferramenta e si risolve anche quello tutto perfettamente funzionante è ottima anche la scelta di poter avere un attenuatore se abbiamo magari un lettore dvd che esce troppo alto il prezzo forse è l'unico AIA vero costa 129 euro ma se vogliamo un sistema subito funzionante semplice ed efficace e si sente pure bene insomma come sempre link in descrizione allora questo è un prodotto molto particolare di un'azienda da color di cui vi ho già parlato vi metto il video qui sopra dedicata alla sua sonda di calibrazione che se siete fotografi questo insomma ce lo dovete avere al 100% questo invece è un prodotto un po' più particolare dedicato insomma a chi lavora con il colore per assurdo dall'imbianchino o all'arredatore di interni ma andiamo ad aprirlo apertura facilitata me lo dovrebbe essere sì oh mi piace questa è una cosa che per me dovrebbe essere obbligatoria su tutte le confezioni di questo tipo anche se adesso non riesco però a estrarre la parte di carta all'interno e qui vado a prendere l'aiutino da casa perché sì l'apertura della parte di plastica è stata immediata ma non si solleva ok eccolo il cartoncino all'interno cartoncino su cui c'è un QR code per quello dovrebbe essere il software ma è un'app in realtà quello che è il software ed eccolo qui andiamo a stringere il più possibile e anche ricontrollare la messa a fuoco quello che è il nostro aggeggino che non so appunto come funziona no non so oh beh no un segno di vita c'è stato ma ci dovrebbe stare un eccolo qui eccolo qui ha una batteria però da 6 volt che devo capire come prende e come si va a ricaricare niente me lo studio un attimo installo l'app e poi la proviamo in realtà non ci sono batterie ricaricabili perché al suo interno ci sono due batterie quelle da 3 volt quelle che si utilizzano sulle schede madri da 3 volt quindi batterie da sostituire non ricaricabili ma utilizzando un bluetooth low energy l'autonomia dovrebbe essere lunghissima per funzionare serve l'app dedicata che si chiama color reader eccolo qui ci dice che è pronto l'ottica il sensore è protetta da questo sportellino e perché funziona bene perché effettivamente lui legge a contatto quindi non è influenzato dalla luce ambientale i colori cambiano secondo se abbiamo delle luci a neon dei faretti della luce naturale e via dicendo lo appoggiamo vi faccio leggere quello che è la superficie del mio tavolo pressione qui sul tasto e vedete ecco qui l'effetto e lo vedete anche l'efficacia in questa ripresa la luce sul schermo del mio Samsung S20 è quello che effettivamente è il colore della superficie ma facciamo un esempio pratico questo è il kit lego che sto assemblando questi giorni io voglio prendere con precisione qual è il rosso del marchio lego vado a allineare il sensore metto vicino il cellulare lettura ed ecco qui questo è il rosso lego se vado su informazioni leggete qui corrisponde a in rgb è 198 41 16 in lab leggete qui i valori ma non solo se dovessi prendere e andare a fare qualche bell'abbinamento quali sono i colori coordinati da mettere in una stanza in cui abbiamo del rosso lego qui vediamo i complementari qui la triede qui l'analogo qui il monocromatico e giustamente da questo colore posso andare a vedere quelle che sono appunto la mazzetta colore corrispondente quindi sia che siamo dei grafici creativi degli arredatori o anche degli imbianchini può essere molto utile il costo di questo aggeggino non è neanche troppo elevato quindi 69 euro se vi può servire la lettura precisa di colori che trovate dovunque quindi ve lo mettete in tasca andate su un negozio di arredamento e leggete i colori come sempre link in descrizione ultimo scatola ad andare ad aprire passiamo a delle cuffie si lo so la terza cuffia di questo episodio di fuori alle scatole ma questa volta una cuffia gaming cuffia della Logitech nella confezione è molto scinografica con quelle che sono le scritte che sono fatte leggermente ad incasso e con questo effetto metallizzato l'apertura dovrebbe essere facilitata l'avevo visto prima perché c'è un adesivo ma con una linguetta che ne permette l'apertura sopra tutta una serie di indicazioni che specifica come collegarlo ma insomma senza indugio andiamo ad aprire ok c'è subito una scritta che ci dice continua a giocare keep playing questa dovrebbe essere la scatola dei accessori ma qui dentro c'è lei c'è anche il librettino con le istruzioni non c'è nient'altro iniziamo delle istruzioni beh sì rapidamente c'è anche l'italiano grazie per aver scelto di giocare con Logitech G ok qui c'è il classico fogliettino con tutte le indicazioni per la sicurezza e via dicendo e queste sono le istruzioni ma soltanto per quello che è il modo di rimuovere la batteria all'interno questo è fatto molto bene anzi scusate stringo così lo vedete anche voi spiegando come si trova la batteria sostituibile all'interno cosa ottima per un prodotto a batterie ma vediamola è arrivato il momento unico sacchettone lungo che l'avvolge ed eccola qui come sensazione subito è quella di leggerezza il che è un bene perché cuffia gaming ma che fiegata che è la fascia qua sopra davvero la cuffia gaming deve essere indossata anche per ore 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 ma durante una partita di esports oppure durante allenamento oppure una serata mentre ci stiamo guardando un film particolarmente lungo pad molto particolari qui vado a stringere guardate che trama che hanno e apprezzo che non è la classica vilpelle è in tessuto quindi sicuramente minor fastidio con il caldo minor fastidio specialmente d'estate adesso magari da meno problemi connessioni qui abbiamo dei pulsanti una rotella per il volume cosa che apprezzo il tasto con il simbolo di accensione però un po' ad accendere vediamo sì 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 l'altra particolarità la vedete è che sono molto da gaming con le lucine guardate come cambiano mentre sto parlando che poi possiamo andare a personalizzare con il software comunque ingresso usbd tipo c e questo buchino qui davanti che dovrebbe essere per il microfono allora qui abbiamo innanzitutto la chiavetta fondamentale da mettere sul nostro computer sulla nostra PlayStation 4 se ho sbaglio è compatibile che è il trasmettitore wireless allora abbiamo innanzitutto il microfono che è fatto in collaborazione con Blue Voice quindi un produttore storico di microfoni adatti anche allo streaming quindi magari se uno si diverte sui twitch o simili quindi non vogliamo che ci sentano lo togliamo vogliamo farci sentire semplicemente lo andiamo a inserire se non sbaglio la forma è questa qui ok vedete il microfono flessibile e dovrebbe avere due capsule quindi anche con la riduzione dei rumori ambientali in più un cavetto ma il classico cavetto usb tipo c neanche lo vado ad aprire per andarlo a ricaricare ma adesso lo collego al computer installo i driver e poi vi dico come vanno allora c'è a dirlo queste cuffie sono assolutamente delle pantofole ma indossato niente di così comodo dopo un po' scompaio anche se stai lavorando al computer nello studio mettendo in ordine hanno una portata di 20 metri autonomia di 29 ore quindi puoi andare a spasso letteralmente per casa e continui a ascoltare la tua musica preferita musica siamo onesti essendo gaming è evidente subito con la musica come il basso si è gonfiato e gli alti invece un pochettino spenti però rimangono goduriose nei film tanta tanta roba e la resa del microfono adesso vi faccio ascoltare come la resa del microfono integrato il loro costo 118 euro come sempre se vi interessano link in descrizione urca ragazzi si abbiamo superato i 31 minuti anche questo fuori dalle scatole è stato bello lungo 7 prodotti che spero vi abbiano preso e mi raccomando potete utilizzare i commenti e ovvio anche per suggerirmi quali siano i prodotti vi piacerebbe vedere nel prossimo episodio di fuori dalle scatole e quindi saluti e baci ciao ragazzi al prossimo video ciao